Di Italo Calvino, da Marco Valdo, ovvero le stagioni in città, Marco Valdo al supermarket. Alle sei di sera la città cadeva in mano dei consumatori. Per tutta la giornata il grande affare della popolazione produttiva era il produrre. Producevano beni di consumo. A una certa ora, come per lo scatto di un interruttore, smettevano la produzione e via, si buttavano tutti a consumare. Ogni giorno una fioritura impetuosa faceva appena in tempo a sbocciare dietro le vetrine illuminate, i rossi salami a penzolare, le torri di piatti di porcellana a innalzarsi fino al soffitto, i rotoli di tessuto a dispiegare drappeggi come code di pavone, ed ecco, già irrompeva la folla consumatrice a smantellare, a rodere, a palpare, a far manbassa. Una fila ininterrotta serpeggiava per tutti i marciapiedi e i portici, s'allungava attraverso le porte a vetri nei magazzini intorno a tutti i banchi, mossa dalle gomitate di ognuno nelle costole di ognuno come da continui colpi di stantuffo. Consumate! E toccavano le merci e le rimettevano giù e le riprendevano e se le strappavano di mano. Consumate! E obbligavano le pallide commesse a sciorinare sul bancone biancheria e biancheria. Consumate! E i gomitoli di spago colorato giravano come trottole, i fogli di carta a fiori levavano ali starnazzanti, avvolgendo gli acquisti in pacchettini e i pacchettini in pacchetti e i pacchetti in pacchi, legati ognuno col suo nodo a fiocco. E via pacchi, pacchetti, pacchettini, borse, borsette vorticavano attorno alla cassa in un ingorgo. Mani che frugavano nelle borsette cercando i borsellini e dita che frugavano nei borsellini cercando gli spiccioli e giù in fondo in mezzo a una foresta di gambe sconosciute e falde di sopraabiti, i bambini non più tenuti per mano, si smarrivano e piangevano. Una di queste sere Marco Valdo stava portando a spasso la famiglia. Essendo senza soldi, il loro spasso era a guardare gli altri fare spese, in quanto che il denaro più ne circola, più chi ne è senza spera prima o poi finirà per passarne anche un po' per le mie tasche. Invece a Marco Valdo il suo stipendio, tra che era poco e che di famiglia erano in molti e che c'erano da pagare rate e debiti, scorreva via appena percepito. Comunque era pur sempre un bel guardare, specie facendo un giro al supermarket. Il supermarket funzionava col self-service. C'erano quei carrelli come dei cestini di ferro con le ruote e ogni cliente spingeva il suo carrello e lo riempiva di ogni ben di Dio. Anche Marco Valdo nell'entrare prese un carrello lui, uno sua moglie e uno ciascuno i suoi quattro bambini. E così andavano in processione coi carrelli davanti a sé, tra banchi stipati da montagne di cose mangerecce, indicandosi i salami e i formaggi e nominandoli come riconoscessero nella folla visi di amici o almeno conoscenti. «Papà, lo possiamo prendere questo?» chiedevano i bambini ogni minuto. «No, non si tocca, è proibito», diceva Marco Valdo ricordandosi che alla fine di quel giro gli attendeva la cassiera per la somma. «E perché quella signora lì li prende?» insistevano vedendo tutte queste buone donne che entrate per comprare solo due carote e un sedano non sapevano resistere di fronte ad una piramide di barattoli e tum 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 con un gesto tra distratto e rassegnato lasciavano cadere lattine di pomodori pelati, pesche sciroppate, alici sott'olio a tambureggiare nel carrello. «Insomma, se il tuo carrello è vuoto e gli altri pieni si può reggere fino a un certo punto, poi ti prende un'invidia, un crepacuore e non resisti più». Allora Marco Valdo, dopo avere raccomandato alla moglie e ai figliuoli di non toccare niente, girò veloce a una traversa tra i banchi, si sottrasse alla vista della famiglia e presa da un ripiano una scatola di datteri, la depose nel carrello. Voleva soltanto provare il piacere di portarla in giro per dieci minuti, sfoggiare anche lui i suoi acquisti come gli altri e poi rimetterla dove l'aveva presa. Questa scatola è anche una rossa bottiglia di salsa piccante e un sacchetto di caffè e un azzurro pacco di spaghetti. Marco Valdo era sicuro che facendo con delicatezza poteva per almeno un quarto d'ora gustare la gioia di chi sa scegliere il prodotto senza dover pagare neanche un soldo. Ma guai se i bambini lo vedevano, subito si sarebbero messi a imitarlo e chissà che confusione ne sarebbe nata. Marco Valdo cercava di far perdere le sue tracce percorrendo un cammino a zigzag per i reparti, seguendo ora indaffarate servette, ora signore impellicciate. E come l'una o l'altra avanzava la mano per prendere una zucca gialla e odorosa o una scatola di triangolari formaggini, lui limitava. Gli altoparlanti diffondevano musichette allegre, i consumatori si muovevano o sostavano seguendo nel ritmo e al momento giusto protendevano il braccio e prendevano un oggetto e lo posavano nel loro cestino, tutto a suon di musica. Il carrello di Marco Valdo adesso era gremito di mercanzia, i suoi passi lo portavano ad addentrarsi in reparti meno frequentati, i prodotti dai nomi sempre meno decifrabili erano chiuse in scatole con figure da cui non risultava chiaro se si trattava di concime per la lattuga o di seme di lattuga o di lattuga vera e propria o di veleno per i bruchi della lattuga o di becchime per attirare gli uccelli che mangiano quei bruchi oppure condimento per l'insalata o per gli uccelli arrosto. Comunque Marco Valdo ne prendeva due o tre scatole. Così andava tra due siepi alte di banchi, tutta un tratto la corsia finiva e c'era un lungo spazio vuoto e deserto con le luci al neon che facevano brillare le piastrelle. Marco Valdo era lì, solo col suo carro di roba e in fondo a quello spazio vuoto c'era l'uscita con la cassa. Il primo istinto fu di buttarsi a correre a testa bassa spingendo il carrello davanti a sé come un carro armato e scappare via dal supermarket col bottino prima che la cassiera potesse dare l'allarme, ma in quel momento da un'altra corsia lì vicino s'affacciò un carrello carico ancora più del suo e chi lo spingeva era sua moglie Domitilla e da un'altra parte se ne affacciò un altro e Filippetto lo stava spingendo con tutte le sue forze. Era quello un punto in cui le corsie di molti reparti convergevano e da ogni sbocco veniva fuori un bambino di Marco Valdo tutti spingendo tre spolicarichi come bastimenti mercantili. Ognuno aveva avuto la stessa idea e adesso ritrovandosi si accorgevano di aver messo insieme un campionario di tutte le disponibilità del supermarket. «Papà, allora siamo ricchi?» chiese Michelino. «Ce ne avremo da mangiare per un anno?» «Indietro presto, lontani dalla cassa!» esclamò Marco Valdo facendo dietro fronte e nascondendosi lui e le sue derrate dietro ai banchi e spiccò la corsa piegato in due come sotto il tiro nemico tornando a perdersi nei reparti. Un rombo risuonava alle sue spalle. Si voltò e vide tutta la famiglia che spingendo i suoi vagoni come un treno gli galoppava le calcagna. «Qui ci chiedono un conto da un milione!» Il supermarket era grande e intricato come un labirinto. Ci si poteva girare ore ed ore. Con tante provviste a disposizione, Marco Valdo e familiari avrebbero potuto passarci l'intero inverno senza uscire, ma gli altoparlanti già avevano interrotto la loro musichetta e dicevano «Attenzione, tra un quarto d'ora il supermarket chiude. Siete pregati da frettarvi alla cassa!» Era tempo di disfarsi del carico, ora o mai più. Al richiamo dell'altoparlante la folla dei clienti era presa da una furia frenetica, come se si trattasse degli ultimi minuti dell'ultimo supermarket in tutto il mondo. Una furia non si capiva se di prendere tutto quel che c'era o di lasciarlo lì. Insomma, uno spingi spingi attorno ai banchi e Marco Valdo con Domitilla e i figli ne approfittavano per rimettere la mercanzia sui banchi o per farla scivolare nei carrelli d'altre persone. Le restituzioni avvenivano un po' a casaccio. La carta moschicida sul banco del prosciutto, un cavolo cappuccio tra le torte. Una signora non si accorsero che invece del carrello spingeva una carrozzella con un neonato. Ci rincalzarono un fiasco di barbera. Questa di privarsi delle cose senza averle nemmeno assaporate era una sofferenza che strappava le lacrime. E così, nello stesso momento che lasciavano un tubetto di maionese, capitava loro sotto mano un grappolo di banane e lo prendevano. O un pollo arrosto invece di uno spazzolone questo sistema, i loro carrelli più si vuotavano più tornavano a riempirsi. La famiglia con le sue provviste saliva e scendeva per le scale rotanti e ad ogni piano, da ogni parte, si trovava di fronte a passaggi obbligati dove una cassiera di sentinella puntava una macchina calcolatrice crepitante come una mitragliatrice contro tutti quelli che accennavano ad uscire. Il girare di Marcovaldo e famiglia somigliava sempre più a quello di bestie in gabbia, o di carcerati in una luminosa prigione dai muri a pannelli colorati. In un punto i pannelli d'una parete erano smontati, c'era una scala a pioli posata lì, martelli, attrezzi da carpintiere e muratore. Un'impresa stava costruendo un ampliamento del supermarket. Finito l'orario di lavoro, gli operai se n'erano andati lasciando tutto come era. Marcovaldo, provviste innanzi, passò per il buco del muro. Di là c'era buio. Lui avanzò e la famiglia coi carrelli gli andò dietro. Le ruote gommate dei carrelli sobbalzavano su un suolo come disselciato, a tratti sabbioso, poi su un piancito d'assi sconnesse. Marcovaldo procedeva in equilibrio su di un asse, gli altri lo seguivano. A un tratto videro davanti e dietro e sopra e sotto tante luci seminate lontano e intorno il vuoto. Erano sul castello d'assedon in palcatura, all'altezza delle case di sette piani. La città s'apriva sotto di loro in uno sfavillare luminoso di finestre e insegne e sprazzi elettrici dalle antenne dei tram. Più in su era il cielo stellato d'astri e lampadine rosse ed antenne di stazioni radio. L'impalcatura tremava sotto il peso di tutta quella merce lassù in bilico. Michelino disse «Ho paura». Dal buio avanzò un'ombra. Era una bocca enorme, senza denti, che s'apriva protendendosi su lungo un collo metallico. Una gru. Calava su di loro, si fermava alla loro altezza, la ganascia inferiore contro il bordo dell'impalcatura. Marcovaldo inclinò il carrello, rovesciò la merce nelle fauci di ferro, passò avanti. Domitilla fece lo stesso, i bambini imitarono i genitori. La gru richiuse le fauci con dentro tutto il bottino del supermarket e con un gracchiante carrucolare tirò indietro il collo allontanandosi. Sotto s'accendevano e ruotavano le scritte luminose multicolori che invitavano a comprare i prodotti in vendita nel grande supermarket.